Ma noi stiamo difendendo due donne come Bilma e Patrizia, che ne hanno dette di tutti i colori, all'interno della casa, con tutti, con tutti, e noi stiamo difendendo Pamela, che è stata l'unica all'interno della casa che non ha mai parlato male di nessuno, di nessuno. Quindi, cara Pamela, quindi cara Bilma e cara Patrizia, fatemi un esame di coscienza, fatemi un esame di coscienza, perché? Perché non si è andato in onda. Allora, posso dire una cosa? Andare in onda? Andare in onda? Per cortesia, vado di gioco, qualificate. No, non dite stupidi. Siete dei premi in onda. E io dico quello che penso. Siete urlate tutte. Come mai quando siete in studio urlate tutte? Allora, Patrizia fa la fila, perché tu dici sempre le cose in faccia, tu non dici niente in faccia. E se una persona dice le cose in faccia che riguardano te, tu non sei fatta così, sei tu la fatta di tutte, cara Patrizia.